Benvenuti ad un'altra puntata di Non Solo Politica, speciale terza età. Il titolo di questa, diciamo, fortunata trasmissione, che è venuto ormai da 12 anni, andava in onda normalmente in diretta, si parla di politica e non solo, ci ha permesso di generare un'altra serie di pillole, sempre sotto questa egida di Non Solo Politica, pillole che riguardano il campo della medicina, il campo dei libri e altre cose di questo genere. Continuiamo quindi questa serie di pillole, parlando della medicina, in particolare del settore della terza età. Ne parliamo stasera con il professor Gino Bologna, che è un urologo. Professor Bologna, una delle principali preoccupazioni degli uomini, preoccupazione perché non ci sono dei sintomi premonitori, è quello del cancro alla prostata. Come si può fare per prevenirlo? Quali sono gli strumenti, quali sono le forme di prevenzione che bisogna attuare per cercare di evitare questa malattia terribile? Evitarla purtroppo non si può evitare. Diagnosticarla precocemente è possibile oggi, è possibile perché le metodiche usate sono sempre più affinate, anche dall'esperienza che noi abbiamo fatto in tutti questi anni nel tentativo di fare la diagnosi precoce. La diagnosi precoce è la chiave di volta. E noi siamo stati spinti a fare questo tipo di promozione e direi anche di educazione sanitaria, perché è importante che la popolazione sia educata, specialmente quella maschile, perché noi abbiamo una fetta di popolazione femminile che è educata al concetto di diagnosi precoce, quindi di visite preventive. Quella maschile è un po' meno. Lo fanno anche perché magari devono partorire oppure hanno altri problemi. C'è un contatto con lo specialista di riferimento che è il ginecologo nell'arco della vita per diversi fatti fisiologici. L'uomo invece questo contatto non ce l'ha, non ce l'ha per cultura, non ce l'ha per tabù, non ce l'ha per educazione che non gli è stata data. E noi con l'esperienza ospedaliera di tanti anni abbiamo circa 15 anni fa iniziato a fare questa promozione, ma anche questa opera di volontariato nel cercare di diffondere questi concetti, proprio perché l'esperienza in ospedale ci dava questa sensazione di carenza culturale. Informativa. Non solo, ma questo ci creava dei grossi problemi. Noi allora operavamo tutti i carcinomi della prostata nello stadio avanzato, quindi in un momento in cui quello che noi potevamo fare diventava carente, quindi si creava una situazione difficile non soltanto dal punto di vista chirurgico, ma anche dal punto di vista dei risultati e delle complicanze che potevano dare questi atti terapeutici. Allora iniziamo questa campagna e la iniziamo non soltanto diffondendo quelle che erano le nostre esperienze, ma anche addirittura cercando di educare la popolazione attraverso quelli che erano i mass media, quindi il giornale, la televisione, come stiamo facendo in questo momento. È importante perché è l'unica difesa reale contro il carcinoma. Il carcinoma della prostata è assolutamente silente, quindi non dà segni. Io lo dico perché? Perché il paziente viene da noi e dice ma io non ho nessun disturbo, perché mi debbo fare il controllo? È perché proprio il carcinoma della prostata non dà segni, non dà sintomi, non dà allarmi, non ci avverte. Si dice che quando l'ulina diventa rossa forse è troppo gara? Assolutamente no, non c'entra nulla. Quello riguarda il carcinoma della vescica. La vescica invece ci dà degli allarmi, quindi possiamo essere più o meno avvertiti se siamo attenti ai sintomi, la carcinoma della prostata è silente, cioè uno è perfetto, ha 45-50 anni o più, ma è quella l'età in cui inizia il rischio, l'età e io la battuta famosa che forse già in altre occasioni ho detto quando mi chiedevano, dice ma uno come se ne accorge? Dal giornale, di come dal giornale? Quando uno lo allontana e lì inizia il processo di invecchiamento, lì inizia il rischio di un carcinoma della prostata. Quindi va fatto il controllo preventivo e non va fatto soltanto facendo il famoso marcatore che ormai tutti conoscono e che spesso è stato criticato, ma io dico sempre è stato criticato perché è un'arma che spesso viene usata da chi non lo sa usare. Quindi non dà quei segni, quegli allarmi perché chi li valuta e riferisce al paziente non ha l'esperienza per saperlo interpretare, quindi ecco la chiave di volta qual è, non solo fare gli esami ma rivolgersi all'esperto che sa interpretarli, quindi sa guida e la guida. Se uno va in montagna e fa una scalata non è che lo fa da solo, di solito prende la guida e la guida serve perché? Perché la guida ha l'esperienza, ha fatto tante volte quel percorso, si è arrampicato tante volte per quei sentieri, quindi sa guidare l'inesperto, cioè quello che non l'ha fatti mai, sul sentiero migliore, quello più sicuro, quello che ci darà risultati. Quando noi parliamo di marcatori, esattamente cosa si intende? Il marcatore in genere è un esame che ci permette di individuare quei movimenti enzimatici che ci permettono poi di fare la diagnosi precoce. Com'è questo esame? In cosa consiste? Però il marcatore ha dei valori, non è che è bianco o nero, più o meno, no, il marcatore ha dei valori che cambiano, che possono cambiare, però possono cambiare anche per processi infiammatori cronici, per situazioni collaterali, per esempio anche non attinenti all'apparato urogenitare. Allora, compito nostro è saperli interpretare, cioè attraverso l'esperienza, per aver fatto quel percorso tante volte, saper dire al paziente in questo caso stai sicuro, in questo caso stai in allarme, in questo caso siamo già in situazioni di pericolo. Allora passa alla fase successiva che comprende altro tipo di marcatori, comprende altri tipi di manovre, comprende quindi poi una possibilità di una diagnosi il più veloce possibile, perché altrimenti nella attesa e nel dubbio legato all'inesperienza della guida alpina si fanno gli errori. Gli errori sono anche quelli dell'attesa, perché l'attesa è dannosa, è dannosa, perché la diagnosi tardiva comporta lo sviluppo della malattia e non succede in vent'anni, succede in sei mesi. Quindi la velocità legata all'esperienza...